Ciao, sono Giulia e anche quest'anno le mie vacanze le ho trascorse al Gattarella Resort. Quest'anno ho incontrato altre due amiche, Alessia e Caterina. Mi chiamo Caterina, ho 12 anni. Mi chiamo Alessia, ho 13 anni. Ci siamo divertiti. La mia colazione preferita è con le amiche. Ci incontriamo spesso per fare colazioni insieme. Andiamo sempre a guardare la spiaggia perché mi piace guardare il mare quando è molto tranquillo, anche il sole. E si sta molto bene, facciamo una colazione abbastanza ricca per poi appunto aspettare e poi farci l'acqua. Di solito prendo sempre il succo al lacee, Alessia il latte e Caterina il succo al mirtillo. Anche quest'anno qui al Gattarella sono state tante le attività da fare. Noi abbiamo scelto il Windsor. Io consiglierei alle ragazze che vengono qui al Gattarella di provare assolutamente il Windsor perché è uno spot molto molto bello e anche molto divertente, anche perché gli istruttori qui sono molto bravi. Abbiamo imparato a guidarlo, c'era non un gran che di vento, però comunque siamo riuscite a stare in piedi e a non perdere l'equilibrio e a tenere la vela. Questa estate abbiamo avuto anche la possibilità di fare un corso sul catamarano, ci siamo divertite molto, ci siamo dovute tenere ben forte. Siamo molto divertite, scherzavamo, avremmo anche il mare che è molto limpido sempre. Davanti al Gattarella abbiamo anche un isolotto che appunto viene chiamato l'isolotto del Gattarella. Abbiamo chiesto al nostro istruttore di avvicinarci per ammirarlo meglio. Subito siamo diventati amiche. Alessia è una delle mie cari amiche, è socievole, vivace, solare. Caterina invece ha 12 anni, di solito con lei facciamo molte attività sportive. Alessia è una delle mie cari amiche, è una delle mie cari amiche. Quest'estate siamo andati anche in piscina. Al Gattarella c'è anche la possibilità di affittare le mountain bike. Visto che sia a me che a Caterina piace un sacco, noi non siamo molto brave. Ma ci abbiamo provato e soprattutto ci siamo divertite. Abbiamo provato anche il tiro con l'arco, ma pensavo fosse facile, ma non è così. Sembrava una cosa semplice, ma in realtà provandoci era un po' più complicata. Il lounge bar è un posto molto panoramico, localizzato sopra gli scogli. La vista è spettacolare. Io, Alessia e Caterina prendiamo un mojito analcolico e ci andiamo a fare qualche selfie. Tutte le sere al teatro ci sono sempre spettacoli diversi. Il circo per me è il più bello, davvero. O il varietà, o la serata dedicata al mini club, piuttosto che quella dello young o del trend. La serata della pizzica piace soprattutto a me e ad Alessia. Il venerdì siamo contentissime di andare al Belvedere a ballare con Michele Mangano, con queste bellissime ragazze, questi colari rossi e queste donne molto grandi. Per i genitori che hanno bambini piccoli è fantastico per chi hanno la Montessori. Personalmente io vi consiglio il gattarella perché ci sono, come vi ho detto prima, di tutto. Il gattarella quando ritornerò nella mia città mi mancherà tanto perché qui mi sono sempre trovata bene, sia con le amiche, gli amici, ma anche il contesto è sempre molto magico e fantastico. L'anno prossimo sicuramente verrò di nuovo al gattarella. È bello per me venire qui al gattarella perché comunque avendo dieci anni mi diverto un sacco. Mi sono divertita tanto a frequentare nuovi corsi. Ogni anno che vengo è sempre più bello e ci sono molte novità. Il gattarella ci ha dato la possibilità di vivere un'esperienza di libertà senza essere accompagnati dai nostri genitori, quindi utilizzando le navette, girare per il villaggio da sole senza avere preoccupazioni. Una vacanza fantastica. Il gattarella ci ha dato la possibilità di vivere un'esperienza di vivere un'esperienza di vivere un'esperienza di vivere un'esperienza di vivere. Il gattarella ci ha dato la possibilità di vivere. Il gattarella ci ha dato la possibilità di vivere. Il gattarella ci ha dato la possibilità di vivere un'esperienza di vivere un'esperienza di vivere. Grazie a tutti.